Ciao a tutti, con questo video siamo arrivati alla trentesima lezione per assistenti. Ancora una volta devo dividere il video in due parti per non darvi troppo materiale. Ricordo la regola generale, questi video sono riservati agli assistenti in formazione che poi continueranno l'addestramento in affiancamento, per cui chi desidera mettersi in formazione dovrà vedere i video precedenti. Con questa lezione parlerò del terzo occhio, comunemente chiamata ghiandola pineale o ipotalamo. Entro per qualche minuto sul terreno scientifico per poi evolvermi sul lato spirituale. Spiego in poche parole cosa è la ghiandola pineale. Effettivamente è una ghiandola a forma di pigna ed è formata come se fosse un grappolo d'uva, dove per ogni acino, per ogni cellula, corrisponde una realtà ben precisa. Raggruppate in sincronie, come per esempio può essere la famiglia, il lavoro, il tempo libero, le amicizie, la scuola, i luoghi comuni. Queste sincronie vanno considerate più nello specifico, cioè le singole persone che compongono i gruppi che dicevo prima. E per ogni persona sono associati delle sinapsi che partono da questa cellula e crea ciò che si chiama reticolo. Il reticolo può andare sia sulla parte destra del nostro cervello, quindi la parte razionale, la parte logica, sistematica, sia sulla parte sinistra del nostro cervello, quindi ciò che riguarda il sentimento, le emozioni, le passioni e la sfera affettiva. Ovviamente queste sinapsi sono collegate con altre due realtà, che sono le memorie e i ricordi, sia a breve che a lungo termine, quindi anche del nostro inconscio, e anche i nostri cinque sensi. Quindi noi associamo una persona a un odore, a un suono, come non può essere una musica, a una figura, a un sapore, eccetera. A questo punto il nostro ipotalamo secerne fluidi. Secerne quei fluidi in base alla chimica di questi ricordi, di queste memorie, di queste emozioni, come per esempio la dopamina, o l'ossitocina, o l'amigdalina, o l'adrenalina, che è sui reni, la melatonina, o la melatonina, e altre sostanze che agiscono tramite i neurotrasmettitori. Se io immagino, per esempio, intensamente, di assaporare un bicchiere di vino, di buon vino, oppure di mangiare un limone acerbo, a un certo punto la visualizzazione del mio pensiero farà attivare le sinapsi di memoria, per cui io sento effettivamente il sapore di quel buon bicchiere di vino, oppure l'acidità del limone. E' esattamente l'opposto di ciò che succede abitualmente. Cioè, non sono le nostre papille gustative a percepire il gusto, ma è il nostro cervello che trasferisce il gusto alle papille gustative, attraverso i fluidi, come può essere la salivazione. E questo vale per tutti i sentimenti, per il tatto, quando noi sentiamo la morbidezza di un tessuto, o per, ecco, una musica che ci riporta a delle memorie, un odore che ci riporta, non so, a memorizzare, per esempio, i banchi di scuola, piuttosto che la nostra casa di campagna, o tante altre cose. Io mi fermerei qua sulla parte scientifica e introduco l'argomento nella parte invisibile, energetica, spirituale, dell'anima, chiamatela come volete, ma in tutti i casi sono coinvolte delle particelle o delle onde invisibili, in base a se si osserva o se non si osserva il fenomeno. Quindi entriamo nel mondo quantico. Ognuno di noi è chiamato a comprendere ciò che sta accadendo alla propria vita. Tutte le situazioni che si presentano volta per volta. È chiamato quindi ad osservare e analizzare gli avvenimenti, proprio come farebbe uno storico. Ma in questo caso si tratta della nostra vita, della nostra storia. Ma attenzione, bisogna avere la capacità di cogliere queste esperienze sotto una chiave spirituale, visibile quindi. Vedere tutto quanto attraverso ciò che è il disegno di Dio, il disegno divino. Cioè vedere tutte le nostre avventure o disavventure come un progetto di Dio sulla nostra vita. Come farebbe per esempio un esegeta o un teologo che analizza la Sacra Scrittura. Per fare questo occorre un ingrediente fondamentale. Occorre che qualcuno ci faccia vedere quello che ci sta accadendo. Chi sono costoro che ci aprono la mente a realtà invisibili. Realtà che si manifestano in modo visibile nella nostra vita. Eppure sono invisibili. Per citarne qualcuno ci sono i mistici sensitivi, i contemplativi. Coloro che lavorano nel settore olistico. Come possono essere i pensatori quantici. Gli esperti di analisi sistemiche. Come i costellatori familiari. Oppure i tecnici di biologia karmica. I cancelor olistici. Gli esperti di energie sottili. Ma ci sono anche coloro che lavorano nella medicina ayurveda. Che ristabiliscono l'equilibrio tra corpo e anima. Con le tecniche per esempio delle campane tibetane. O dell'agopuntura. Dell'ipnosi terapeutica. Tecniche di riflessologia plantare. E poi c'è ancora la kinesi terapia. I cinque precetti del dharma. E tanto altro. La parapsicologia. Ci sono i facilitatori di evolution mandala. Poi c'è la visualizzazione inconscia. E il manifesting. Come vedete tutte queste specializzazioni. Sono solo tecniche che aiutano a capire ciò che ci sta accadendo. Ad accentrarci. A metterci in equilibrio sia il corpo, sia l'anima, sia lo spirito. Tutte e tre contemporaneamente. Questo è importante. Perché tutte e tre le realtà devono influire in un unico punto. E' una sorta di benessere che io chiamo il settimo cielo. Ora volevo illustrarvi tre passaggi importanti comuni in tutte queste pratiche. Primo passaggio. Un individuo riesce a scoprire e accorgersi del proprio karma attraverso il riconoscimento delle proprie azioni. Queste sia nel presente, sia nel passato. Come va un individuo a fare questa introspezione? Attraverso quello che si chiama ghiandola pineale, comunemente chiamata terzo occhio. Allora, ce lo hanno tutti. Ma non tutti lo hanno attivato. Il terzo occhio è chiuso. O meglio, non è in grado di vedere o di captare le onde delle persone che sono intorno a noi. La nostra ricce trasmittente è l'ipotalamo. Quindi il primo passo è l'apertura del terzo occhio, che ci fa vedere cose che altri non vedono. Percepiamo realtà invisibili, che oggi possono essere tracciati attraverso degli strumenti tecnologici, come possono essere lo spettoscopio, gli elaboratori quantici, poi c'è anche la fotografia oscilloscopica dell'anima, e altri strumenti tecnologici digitali all'avanguardia, di cui io sono chiamato anche a testarli, in qualche modo. Rivediamo questo passaggio e parlo per esperienza personale, in quanto sono tappe che ho percorso da autodidatta. O meglio, le ho scoperte in modo naturale, e poi le ho confrontate con le scienze che vi dicevo prima. A un certo punto della mia vita, scopro che ci sono cose o situazioni per cui sto male, sto male. Situazioni che all'oggi si ripetono in loop, in modo ciclico, come se il disco si fosse inceppato nello stesso punto. Situazioni passate per cui il mio agire non era conforme con la vera scelta, con la scelta giusta, come per esempio quando si fanno cose insensate, oppure quando si è schiavi delle passioni, oppure ancora quando si fanno cose che traviano, come può essere l'invidia, la gelosia, la rabbia, la vendetta, e altre cose per cui lo spirito va in conflitto con l'anima e il corpo, va in contrasto con qualcosa di reale. Nell'oggi queste situazioni le vivo e le faccio vivere con la consapevolezza e insegno ad avere una buona padronanza di governo di tutte le scelte, questo grazie alla spiritualità cristiana. Ricordatevi che essere cristiani non è da poco. È importante riscoprire i propri limiti, i propri errori, i propri sbagli, perché se non le consideriamo, se non notiamo l'anomalia del sistema, non possiamo neanche correggerla. Bene, qui termina la prima parte e nella seconda parte vedremo gli altri due passaggi.